Oggi siamo qui Oggi siamo qui in piazza San Toronzo per fare il flash mob per supportare la LIS, il riconoscimento della LIS. Questo flash mob è stato organizzato perché in Italia la LIS non è riconosciuta, ma questa è una lingua nostra e serve che la LIS sia riconosciuta perché è al pari delle altre lingue nel mondo. In alcuni paesi europei è riconosciuta, ma invece in Italia ancora no. La LIS è riconosciuta, ma invece in Italia è riconosciuta, ma invece in Italia è riconosciuta. La LIS è riconosciuta, ma invece in Italia. Tutti i sordi sono presenti in questa piazza perché vogliamo fare in modo che anche gli udenti possano conoscerci, conoscere la nostra realtà. LIS è riconosciuta. L'organizzazione del flash mob non è stata facile per niente. Abbiamo provato più volte prima di questo evento e proprio grazie al gruppo che abbiamo creato su Facebook siamo riusciti a pubblicizzarlo. Sono soddisfatta perché c'è stata una numerosa partecipazione. Grazie. 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 Grazie.